Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Prima di iniziare vi consiglio di indossare gli auricolari perché questo è un video da orecchio a orecchio, quindi indossate le cuffie e iscrivetevi al mio canale e attivate le notifiche, la campanella che è qua giù. Oggi vado a fare un video. Vado a fare un video di sussurri e di rumori col polistirolo. E collo questo pennello che io adoro tanto. E poi ho trovato questa. E poi ho trovato questa. E poi ho trovato questa. Io adoro questo suono. Molto. Quale rumore preferite? Questo? Oppure questo? Ok. 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 Rilassati. Chiudi gli occhi e non pensare a nulla. Tutti i tuoi pensieri negativi vengono scacciati via da questi rumori. Non esiste più niente. Esisti solo tu. Esisti solo tu e il tuo benessere. Tutto il resto non conta. Non scoraggiarti mai. Mai mai. Non serve a nulla sentirsi giù. La tua vita è importante. Più di ogni altra cosa al mondo. scoraggiarsi non serve a nulla. Se sei stanco riposati. Raccogli le tue forze. E poi ricomincia il tuo cammino. Non è mai semplice ricominciare. Però è necessario. Basta raccogliere le idee. e proiettarsi verso nuovi progetti. Verso nuovi orizzonti. Di sicuro la tua strada ti farà incontrare nuovi eventi. e arriverà il momento in cui ci sarà quello giusto per te. Ma ricorda che la vita è un ciclo. Tutto inizia. Tutto cresce. Tutto finisce. Per poi ricominciare. Per poi ricominciare. Un nuovo cammino. E così. Scoraggiarsi non serve. Anche se ti dispiace. ed è normale che ti dispiace. Ma fa parte del ciclo della vita. Ogni cosa ha un senso. finché. Finché tu. Gli darai un senso. Ma nulla. Arriva per caso. Nessuna cosa. Nessuna cosa. E allo stesso modo. Nessuna cosa. Finisce per caso. Se qualcuno si allontana da te. Se qualcuno ti evita. o al contrario. Se qualcuno ti soffoca. Se qualcuno ti fa sentire prigioniero. Allora vuol dire che è il momento. In cui tu devi agire. Solo tu puoi cambiare te stesso. Non puoi cambiare gli altri. E non puoi aspettare che gli altri cambino. prosegui lungo la tua strada. E cerca di andare nei luoghi. E di frequentare. Le persone. Che ti fanno stare bene. Tutto il resto. Non conta. E lo so che potresti pensare. Che. Ti viene privato della possibilità. Di conoscere qualcuno. Però pensa. Che ci sono. Tantissime persone. Che meritano. Di essere conosciute. E che magari. Sono. Migliori. Di quelle che ti hanno. Allontanato. Allontanato. Se ti senti soffocare. Invece. Allontanati. E cerca. La tua strada. Cerca. La tua libertà. A volte. Manca il coraggio. Perché il coraggio. Quello che serve. Per decidere. Di voltare pagina. La forza. La forza ti fa sopportare. Il coraggio ti fa volare. E ricorda. Che non è mai troppo tardi. Per ricominciare da zero. E neanche a 90 anni. Lo so. Può sembrare un paradosso. Però. Ogni minuto della tua vita. Merita. Di essere vissuta. Come meglio credi. E non fa sprecato nulla. Neanche un secondo. Ricorda. Che nella vita ci vuole equilibrio. Aspettare troppo non va bene. Però non va bene neanche. A frettare i tempi. Accelerarli. O rallentarli. A volere tutto e subito. Non fa raggiungere i risultati sperati. Soprattutto. In merito. Alle persone. Perché poi qualcuno potrebbe sentirsi soffocare. E quindi si allontanerà. E quindi si allontanerà. La vita è tua. Non sprecare nulla. Non sprecare nulla. Rompi le paure. Rompi le ansie. Solo quando riuscirai a sconfiggere ciò che ti fa paura. Le paure. Le ansie che ti soffocano. I problemi che ti fai. Riuscirai a capire chi sei veramente. E solo allora. Riuscirai ad essere te stesso. Le paure non esistono. Le crea la nostra mente. E non serve a nulla. Baricarsi dietro una barriera. Perché poi quella barriera. Diventa la tua prigione. Che non ti fa vivere. Che ti fa sfuggire gli aventi. Che ti fa. Sopportare. Che. Cheiusi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Esiste solo tu, il tuo benessere. Grazie a tutti. Io spero che questo video vi sia piaciuto, nonostante i vari rumori di sottofondo. Scrivetemi qui giù nei commenti, ditemi che cosa vi è piaciuto di più di questo video. Se preferite video del genere o soltanto video in cui sussurro senza rumori, fatemi sapere. Io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao.